La derinazione ad Agazzi, colpo alla Sagra della Tagliata, di circa 2000 euro. I malviventi sono entrati in azione nel weekend conclusivo dell'evento, nella notte tra venerdì e sabato scorsi. I banditi hanno fatto razzie di bibite all'interno del chiosco, rubando bottiglie di liquori, la macchina del caffè, le cialde non ancora utilizzate e oltre 150 euro in monete. Un duro colpo economico, oltre che morale, per la Sagra della Tagliata. La manifestazione che ogni anno anima la piccola frazione alle porte di Aghezzo. Per entrare nel circolo avevano le porte di uscita di sicurezza. Da noi erano gazebi dei fracassi, sicché non sarà molto facile aprire. Anche noi c'era la sorveglianza e tutto, però sono stati molto bravi. Mi spiace proprio perché si fa per aggregare, sono tutti lì, anche poi noi siamo mandati via le tre, sono più di 30 persone, non è manco che si lascia abbandonato. Poi c'era la sorveglianza della telecontra e tutto, però ci hanno fregato. Sono stati bravi, bravi. Avete notato qualche presenza strana quel giorno? No, quel giorno lì no. La sera dopo si era notato qualcosa e si è ristratto anche forse di prenderli. La sera dopo, la sera dopo. Il sabato notte, infatti siamo stati qui fino alle 6, c'era una fiesta rossa che girellava, che è una macchina sconosciutissima, fra l'altro anche proprio nel piazzale di casa mia, che forse aspettava che rientrassi io e sicuramente per venir giù. Quindi forse aspettavano l'incasso? Sì, 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 perché noi chiaramente l'incasso della festa ci si divide, insomma non la portavai via mai uno in due o tre, però io siccome sono presidente e non lo porto via mai perché magari sono quello più sospetto che ce l'ha, però erano nel piazzale di casa mia, sono stato avvisato e col presidente anche del circolo, qui si è fatto la ronda tutta la notte perché, però non ci è riuscito, non ci è riuscito, come si diceva di sopra a Scalli proprio, forse ci hanno notato loro prima di noi. Quindi qualcuno comunque aveva studiato i movimenti? Sì, sì, sicuramente ci teneva un docchio, questo che ci teneva un docchio è assicurato, che anzi io dico anche a quelle altre feste, chi pensa a questa cosa abbia un pochino, tenga un po' l'occhio aperto, perché questi veramente vengono prima, ti guardano, guardano quello che fai, magari le sere prima, non lo so, e dopo è andata così, però siamo stati sfortunati e fortunate allo stesso tempo, perché da una parte è meglio anche non ci ritrovare.